musica allora metto in mezzo tutte e tre allora il tuo nome è togli queste manacce allora il tuo nome è Mariana ci hanno detto che siete due veline veramente? ok e l'altra dov'è? è qui vieni visto che lei non viene ci dici un paio di difetti della tua amica non ce ne ha è perfetta però un po' timida un pochino ciao 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 ciao